Salvatore Solina E la quartese Ecco, allora, come avete sentito Grazie amore mio, questo è per ringraziare la propria donna, il proprio innamorato, insomma Del bene, dell'affetto che offre alla persona amata La voce di Salvatore Solinas e la composizione Di Salvatore Puro, accompagnato da Salvatore Puro, va bene, grazie E mandiamo subito via Grazie a tutti 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 Oggi è il nuovo titolo e buonasera 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 a questa sera Ecco, allora Un po' di musica, un po' di poesia e un po' di altro Bene Un po' di tutto, insomma Allora, come tu hai detto col titolo della tua trasmissione Io e Salvatore Solinas Diciamo a tutti Avvicinati Salvatore al microfono Diciamo a tutti Arrivederci Arrivederci A giovedì prossimo Ciao Ciao a tutti Ciao